Linee telefoniche e portali informatici in tilt con la conseguenza di un generale rallentamento dei servizi. Giornata di difficoltà per gli uffici e i presidi ospedalieri dell'azienda sanitaria locale della provincia dell'Aquila. A fare i conti con questa situazione sia gli operatori che gli utenti. Un collo di bottiglia che, come detto, ha avuto ripercussioni su tutte le attività della Asluno, a partire da quelli che sono poi punti di accesso ai servizi sanitari, ossia i cupi centri unici di prenotazione. Dall'azienda sanitaria locale Aquilana è stato escluso che i disservizi siano stati causati da un nuovo attacco informatico simile a quello del maggio del 2023. Infatti, l'ipotesi che sembrerebbe più accreditata è quella che durante lo svolgimento di alcuni lavori possa essere stato accidentalmente tranciato un cavo della fibra ottica. Comunque, per far fronte alla difficoltà e in attesa della risoluzione del problema, l'azienda sanitaria locale della provincia dell'Aquila ha adottato il suo protocollo di emergenza.